Bergen, 18 settembre 2017, Italia subito protagonista ai mondiali di ciclismo 2017 in corso di svolgimento a Bergen grazie alla doppietta nella cronometro Donne Junior con il successo della Pirrone, e il secondo posto della Vigilia. Vediamo il programma dei prossimi giorni con gli orari TV, percorso e favoriti. La data da cerchiare in rosso sul calendario è domenica 23, con la prova Elite Uomini. Caccia alla maglia eridata di Peter Sagan.